Parola per parola Rissuonando Traduzione Ripetiamo insieme, per favore. Il boato di tutte quelle conchiglie diventa tumultuoso Ripercuotendosi nel cielo e sulla terra Fa tremare il cuore dei figli di Dhritarashtra Spiegazione Quando Bhishma e gli altri alleati di Duryodhana soffiarono nelle loro conchiglie non ci fu la minima paura nel campo dei Pandava Al contrario, questo verso mostra che è il rugito delle conchiglie dei Pandava a far tremare il cuore dei figli di Dhritarashtra E se i Pandava incutono tanto terrore al campo nemico ciò è dovuto solo alla loro totale fiducia in Krishna Chi si rifugia nel Signore Supremo non ha più niente da temere anche nel mezzo delle più gravi difficoltà Om Ajyanati Mirandhasya Jnanañjala Shalakaya Chakshurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yenabhutale Zvayam Rupaka Dhamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatantvitam Tam Sajivam Sadvetam Tamsajivam Sadvetam Savadhutam Pahijana Sahetam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karunasindho Dhinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Taptakanchanagurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namona Maha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advetha Gadadhara Shri Vazadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Siamo all'inizio della Bhagavad Gita e questi versi sono molto interessanti qui parla Sanjaya al re Dhritarashtra e elenca tutti i grandi combattenti che rimangono nella fazione dei Pandava nello schieramento dei Pandava e questo, questi versi, sono il preludio alla battaglia che sta per iniziare e vediamo che nel verso e nei versi precedenti sono state descritte le conchiglie di Krishna di Arjuna e di Bhima le conchiglie più importanti, possiamo dire i combattenti più importanti Arjuna, Krishna e Bhima considerato Vrikodara grande e vorace combattente e qua vengono descritte e nominate le conchiglie del re Yudhishtira Anantavijaya e di Nakula e Sahadeva su Goshen Manipushpaka quindi Yudhishtira, Nakula e Sahadeva insieme a Bhima e ad Arjuna sono i cinque figli di Pandu i Pandava e poi vengono nominati anche grandi e valorosi combattenti come il re di Kashi e l'attuale Varanasi Shikandi, Drishtadyumna, Virata, Sattaki grandi comandanti e combattenti che sono pronti a uccidere sono pronti per iniziare questa battaglia e difendere i principi del Dharma e vediamo che ci sono diversi versi che elencano le varie conchiglie e descrivono il suono della conchiglia quindi l'importanza del suono della conchiglia e il suono della conchiglia che qui è descritto e il preludio indica l'inizio di questa battaglia così come se ci pensiamo qui al Tempio il primo suono che noi ascoltiamo all'inizio del programma spirituale è proprio la conchiglia alle quattro e mezza suona la conchiglia tre colpi di fiato e quindi la conchiglia suona e si diffonde in tutto l'etere e carica l'etere di vibrazioni trascendentali quindi la conchiglia determina l'inizio del programma spirituale l'inizio di una battaglia così come possiamo vedere per esempio a scuola quando suona la campanella inizia la lezione e quando suona di nuovo la campanella finisce la lezione anche così quando durante la battaglia suonava la conchiglia al tramonto determinava la fine della giornata di combattimento anche per un suono non proprio trascendentale la sirena delle fabbriche quando suona la sirena inizia il turno e quando suona la sirena dopo otto ore finito il turno quindi il suono determina l'inizio e la fine di qualcosa e tutti possono ascoltare il suono pensiamo in una grande fabbrica suona la sirena tutti sanno che bisogna iniziare il turno quindi il senso dell'udito viene utilizzato per capire che inizia il turno di lavoro gli altri sensi non sarebbero di grande aiuto per la collettività pensiamo per far capire che inizia un turno di lavoro attraverso la vista come si fa a far vedere a tutti la stessa cosa nello stesso momento l'olfatto il gusto il tatto invece il suono possono sentirlo tutti allo stesso modo allo stesso momento tra tutti i sensi quindi il suono e l'udito è considerato il più importante e quindi il suono riverbera nell'etere così come il suono delle conchiglie descritto che riverberava tra il cielo e la terra e la Bhagavad Gita nel tredicesimo capitolo c'è un verso molto interessante che dice è descritto la natura dell'etere che è l'elemento tra i cinque elementi grossolani quello più sottile e praticamente è detto che come l'etere che Sokshmiat di natura molto sottile sebbene sia esteso ovunque non si mischia mai a niente così l'anima sebbene sia all'interno del corpo quindi sia all'interno e abbia il corpo a coscienza perché c'è l'anima e l'anima pervade il corpo così no palibbiate l'anima non è mai toccata dalla materia realmente non è mai toccata anche se nel corpo c'è muco bile, grasso, sangue, pus, di tutto ma l'anima non è mai toccata da questi elementi materiali e anche un po' non proprio carini diciamo da sentire così quindi descrive l'anima e l'etere quindi è così immenso e pervade tutto praticamente l'etere pervade ogni cosa e quindi il suono viaggia attraverso l'etere e quindi vediamo che l'importanza del suono della conchiglia e soprattutto in questo verso che abbiamo letto i primi tre in cui vengono descritti questi grandi combattenti valorosi questi grandi guerrieri che purificano anche l'ascolto se noi ascoltiamo questi nomi che sono tanti nel Mahabharata ma ascoltando il nome di Yudhishtira anche se una persona non sa realmente chi è si purifica perché ascolta il nome di un puro devoto così come gli altri grandi dei fratelli di Yudhishtira di Arjuna e i grandi combattenti grandi anime tutti i grandi devoti grandi personalità valorose quindi vengono descritte queste grandi personalità tra cui anche viene detto Soubadra il figlio di Soubadra che è Abhimanyo in sanscrito quando si dice Soubadra è la mamma Soubadra è considerato un patronimico viene viene aggiunto tecnicamente un dittongo viene allungata la vocale questo indica che lo stesso nome per esempio Soubadra cambiando la seconda la vocale allungandola determina che quello è il figlio o la figlia del padre o della madre così come Vasudeva Vasudeva con la lunga e Krishna il figlio di Vasudeva e quindi Abhimanyo è il figlio di Arjuna che combatte insieme al padre e sappiamo che Abhimanyo è il padre di Maharaj Parikshit quindi una grandissima dinastia sappiamo Maharaj Parikshit grandissimo devoto del Signore che ha ascoltato il Bhagavatam da Shri Rasyukadeva Goswami quindi la dinastia dei Pandava è una dinastia estremamente valorosa estremamente devota e pia quindi questi nomi hanno il potere di purificarci anche all'ascolto e il verso che abbiamo letto e recitato insieme in italiano dice il boato di tutte quelle conchiglie diventa tumultuoso infatti molto interessante vediamo nel sanscrito la parola tumula vuol dire proprio tumultuoso era una cosa che già mi aveva colpito molti anni fa come questa parola vuol dire proprio tumultuoso come in italiano viene anche tradotto come assordante in altre edizioni quindi un suono tumultuoso che permea tutto l'etere che vibra tra il cielo e la terra il suono di tutte tutte queste conchiglie di questi grandi e valorosi guerrieri questi devoti del Signore e e qua dice che fa tremare il cuore dei Kuru fa tremare di paura il cuore dei Kuru perché perché in questo suono in questo boato avvertono e percepiscono la loro morte la loro fine e e questo è un punto chiave di questo verso molto interessante di come e praticamente i Pandava sono devoti del Signore e quindi sono praticamente protetti e privi di paura invece i Kuru che hanno scelto di rifiutare il Signore rifiutare Krishna nel loro nella loro schieramento hanno un terrore incredibile perché avvertono e sanno già che questa battaglia sarà la loro fine lo percepiscono infatti Krishna nell'undicesimo capitolo quando mostra la forma universale ad Arjuna gli dice ad Arjuna alzati combatti combatti per me e dice tutti in questo campo di battaglia sono già morti per mio ordine sono già morti e tu o Savvyasachin chiama Arjuna grande combattente grande arciere tu non sei nient'altro che uno strumento nelle mie mani nimitta matram bhava Savvyasachin dice Krishna Darjuna tu sei semplicemente uno strumento nelle mie mani e quindi dice sapendo ciò devi combattere il destino io io l'ho già deciso per mio ordine sono già tutti uccisi e questo è ciò che dice Krishna ad Arjuna e c'è Tanya Charitamrita dice Krishna e l'ishvara il controllore supremo e Arasabha brittia brittia vuol dire servitore noi tutti siamo servitori sabba tutti quanti e dice Krishna fa ci fa danzare come lui vuole nrittia nrittia è la danza Krishna ci fa danzare come lui vuole come dei burattini Krishna è il supremo controllore l'ishvara e decide cosa fare dove stare cosa darci cosa diciamo cosa regalarci cosa non viene il termine cosa fornirci grazie cosa fornirci e quindi Krishna è considerato Eccale l'unico ishvara l'unico controllore e noi essendo servitori e riconoscendo di esserli sapendo che siamo mossi come dei burattini in questo mondo illusorio non possiamo fare altro che danzare come lui vuole quindi questa è una comprensione molto intelligente è come un burattino un burattino noi diciamo tante volte si sente anche i cristiani dicono signore sono nelle tue mani vuol dire proprio quello sono nelle tue mani è come appunto un burattino viene mosso e orchestrato dalle mani di un esperto burattinaio anche se non si vede ma il risultato di chi vede lo spettacolo di bambini famiglie vede uno spettacolo armonioso divertente ben orchestrato in cui questi burattini si muovono danzano parlano tra loro hanno relazioni ma noi non vediamo chi muove questi burattini ma sappiamo che qualcuno muove questi burattini e quindi noi dovremmo capire e sapere che noi che siamo come burattini che siamo fatti di materia praticamente inerte che è semplicemente animata dallo spirito dal brahman a ham brahmasmi siamo mossi dalle mani supreme di Krishna di Dio e un burattino senza fili casca per terra non serve a niente e non fa ridere nessuno e quindi noi il nostro compito è capire che siamo mossi dalle mani di Dio e farci guidare quindi da Lui farci orchestrare questa è una comprensione che richiede comunque un po' di intelligenza quindi dovremmo diventare strumenti nimitta matram vuol dire proprio essere strumenti e quindi essere rappresentanti praticamente quindi non crederci noi i protagonisti ma riconoscere chi è il protagonista superiore e ricordarci che ogni abilità che noi abbiamo ogni facoltà intellettuale mnemonica ogni abilità manuale ogni capacità artistica non può venire dal non l'abbiamo generata noi con le nostre forze con le nostre sole energie non nulla proviene dalla nostra niente abbiamo prodotto noi autoprodotto ma noi siamo il prodotto di qualcun altro di superiore questa consapevolezza è è la base dell'abbandono a Dio del servizio a Dio capire di come noi siamo dipendenti shabda che poru sham rishu è detto nella bhagavagita che l'abilità nell'uomo proviene da Dio quindi ogni abilità che noi abbiamo ogni capacità intellettuale che noi possediamo è molto intelligente utilizzare applicarla al servizio dell'intelligenza supremo questa è buddhiyoga buddhiyoga vuol dire unione attraverso l'intelligenza all'intelligenza suprema quindi esatto ci vuole un po' di intelligenza per capire qual è come ricollegare la nostra intelligenza all'intelligenza suprema e quindi attraverso questa intelligenza attraverso la logica anche il razziocino possiamo prendere rifugio in Dio nel Signore e e quindi come dice Sri la Prabhupada qui chi si rifugia nel Signore supremo non ha più niente da temere anche nel mezzo delle più gravi difficoltà quindi il segreto della pace è il rifugio prendere il rifugio nel nel Signore e allora non ci sarà più paura di niente e come ci sono tanti esempi che si possono fare come abbiamo avuto tutti questa esperienza come da bambini di notte nel nostro letto abbiamo gli incubi abbiamo paura dei mostri e allora cosa facciamo andiamo a rifugiarci nel letto dei genitori tanti l'abbiamo fatto andiamo in mezzo ai genitori papà e mamma e allora lì ci sentiamo tranquilli sereni è sempre buio sempre notte però tra i genitori ci sentiamo protetti ci sentiamo sicuri gli stessi mostri che immaginavamo non ci sono più spariscono perché siamo insieme e ci siamo riavvicinati ai nostri genitori al nostro padre e nostra madre quindi è molto intelligente capire come prendere rifugio e liberarci dalla paura della morte tanti orgogliosamente hanno dicono di non avere paura della morte sono sono convinti e orgogliosi di essere forti di essere in grado di affrontare tutte le difficoltà anche la morte e che se arrivasse la morte in questo momento io non avrei nessun timore nessuna paura ma in realtà i fatti e spesso succede dicono che non è realmente così perché coltivando desideri malsani e praticando attività degradanti la coscienza rimane talmente bassa che al momento della morte l'ultima consapevolezza che si può avere è che si è nelle mani del Signore in quel momento c'è solo il delirio la sofferenza più totale psicologica si perdono tutti gli attaccamenti tutto viene a crollare tutto quello che si pensava fosse eterno viene a mancare e questo è la realtà dei fatti infatti Krishna nella Bhagavad Gita dice chi si è liberato dall'attaccamento dalla paura dalla collera e ha preso completo rifugio in me queste persone attraverso le austerità e la conoscenza si sono purificate e si sono abbandonate a me e madbavam agatà e hanno raggiunto l'amore trascendentale per me e quindi bisogna liberarsi da tutte queste cose vita raga attaccamento paura collera ieri sono stato in un paesino e durante alla sera sono state le sette di sera c'erano due ragazzi in macchina e io stavo distribuendo i libri e gli ho proposto un libro gentilmente facendo io vedere dalla macchina e questo ragazzo che era al volante della guida no no era arrabbiato non gli interessava per niente e poi ho capito che non gli partiva la macchina e non gli partiva la macchina era lui con la sua ragazza e sono ritornato dopo qualche minuto e l'ho visto fuori dalla macchina al telefono che ne diceva di tutti i colori bestemmiava era arrabbiatissimo e ho dato uno sguardo dentro la macchina a questa ragazza che era seduta e aveva gli occhi pieni di paura era era terrorizzata ho visto proprio la paura nei suoi occhi e ho pensato proprio anche a questo verso che dice vita raga bayacro da e sicuramente questa persona erano le sette di sera non gli partiva la macchina e magari quella sera aveva un appuntamento una pizza doveva guardarsi la partita che stava per iniziare tutti i suoi piani venivano scombinati e quindi l'attaccamento gli ha generato un un disastro mentale completo quindi raga baia questa ragazza terrorizzata quel ragazzo lì che era arrabbiatissimo lei era lì tutta impaurita non sapeva che fare croda la collera collera e fuori di sé non era più padrone di sé perché non aveva non sapeva come risolvere la situazione gli si sono scombinati tutti i piani e quindi paura collera attaccamento cosa può succedere a una persona così al momento di lasciare il corpo non un granché invece il devoto un devoto anche come dice qua Srila Prabhupada anche nel mezzo delle più gravi difficoltà anche qualsiasi cosa succede o succeda dice ah è Krishna che mi vuole dire qualcosa questo è Krishna se sta succedendo questo è un piano superiore un piano di Krishna in ogni occasione qualsiasi cosa succeda il devoto ha questa mentalità sa che c'è la mano di Krishna in tutto quello che succede e questa è la grande forza che ha il devoto sapersi sottomettere completamente al Signore quindi sapersi completamente sottomettere perché sottomettersi in parte non è proprio molto logico cioè sottomettersi ma in parte cioè io mi sottometto a te ma mi tenga ancora qualcosa non è buddhi yoga non è non è sharanam non è completo rifugio non si può definire nemmeno rifugio perché un rifugio parziale non è un rifugio completo che fa ottenere completamente la protezione e l'amore totale e la fiducia totale di Krishna quindi bisogna imparare a diventare strumenti e a sottomettersi totalmente a Krishna ognuno secondo la propria posizione dove si trovi nella società non vuol dire andare a vivere in un tempio e basta quello vuol dire sottomettersi completamente non è quello uno può anche avere una multinazionale ed essere completamente abbandonato a Dio e e questo possiamo vederlo anche in tanti devoti in tanti esempi e quindi la Bhagavad Gita insegna a liberarsi dalla paura e insegna a a prendere rifugio in Dio e a percepire la presenza di Krishna sempre nella nostra vita la presenza di Dio e ascoltavo in questi giorni un Devamrita Swami che raccontava di come ha ha trovato la Bhagavad Gita e di come è diventato devoto e dato che lui studiava anche era interessato comunque in un modo o nell'altro le filosofie e in un corso gli è stato detto che doveva leggere una Bhagavad Gita allora ha trovato una Bhagavad Gita una versione di un certo inglese ha iniziato a leggere la Bhagavad Gita e in un commento Bhagavad Gita c'era il verso e i commenti in un commento ha letto Krishna è un concetto che serve a soddisfare la come va detta soddisfare diciamo la voglia di conoscenza di intellettuali e di sentimentalisti questo è ciò che era scritto nel commento in questa versione della Bhagavad Gita e Devamrita Swami diceva che non aveva mai sentito parlare di Krishna lui nella sua vita ma quel commento lì l'ha turbato gli ha dato veramente fastidio tant'è che ha preso dopo aver letto quella Bhagavad Gita e l'ha buttata nel cestino direttamente perché non gli è piaciuto per niente quel commento ha fatto così e allora dopo un po' di mesi si è informato e ha trovato una Bhagavad Gita così com'è ha letto la Bhagavad Gita così com'è insieme ad altri libri di Shriya Prabhupada e ha detto che non ha mai trovato una conoscenza così logica e profonda nella sua vita in tutti gli studi che ha fatto questa è putam è la purificazione che permette di capire quale è la realtà e qual è l'illusione e quindi vediamo come Devamrita Svami ha capito che quel commento non aveva molto senso anche se non conosceva niente di Krishna però lo percepiva e grazie a questa purificazione è riuscito a capire qual era la vera versione di Krishna e ha trovato così la Bhagavad Gita così com'è tradotta da Srila Prabhupada e quindi ecco diciamo che per concludere il commento di Srila Prabhupada diceva e se i Pandava incutono tanto terrore al campo nemico ciò è dovuto solo alla loro totale fiducia in Krishna quindi quando Bhishma ha suonato la sua conchiglia i Pandava non avevano paura e Duryodhana era molto felice di ascoltare il suono della conchiglia di Bhishma pensava che il suo grande patriarca grande valoroso Bhishma grande combattente gli avrebbe dato piacere soddisfazione sconfiggendo i Pandava in battaglia ma vediamo quando tutte le conchiglie dei Pandava e della dinastia dello schieramento hanno suonato tutte insieme come i Kuru abbiano capito che quella era la fine quella era la loro morte e quindi tutti a tutti arriverà il momento della morte gli atei conosceranno Krishna attraverso la morte è l'unico modo per conoscere Krishna gli atei diranno negheranno sempre l'esistenza di Dio ma non potranno negare l'esistenza di Dio quando arriverà il momento della morte quello è scontato è ineludibile anche i devoti avverteranno la presenza di Krishna quando arriverà la morte che non è altro che un passaggio ma consapevolmente sapranno che è Dio stesso che arriva nella nella forma della della morte e quindi il devoto è sicuro e sereno e consapevole e quindi come dice la Bhagavad Gita quando il devoto non è più torbato né dalle gioie né dai dolori in quel momento Amrita raggiungerà l'immortalità e raggiungerà la dimora suprema di Dio quindi solo in questo modo possiamo liberarci dalla paura della morte prendendo seriamente e con tutto il cuore rifugio in Dio già Hare Krishna mi fermo qui se c'è qualche commento qualche domanda benvenuta qualche minuto come prendere il rifugio è la tua domanda prendere rifugio in Dio in Krishna vuol dire tecnicamente prendere rifugio nei rappresentanti di Dio di Krishna perché noi Dio non lo vediamo in realtà Krishna non possiamo vederlo però possiamo vedere la ferma e totale devozione e convinzione del puro devoto di Dio tatva darshina colui che ha visto la verità colui che ha visto Dio è completamente sottomesso a Dio nella mente è sottomesso parole azioni lavora solo per Dio e percepisce Dio allora se noi troviamo una tale persona possiamo prendere rifugio in questa persona e quindi in questo modo prendere rifugio in Dio perché si può prendere rifugio in Dio anche inizialmente una persona soffre e chiede aiuto al Signore sono nelle tue mani ma questo aiuto che chiede e questo aiuto sincero che chiede genererà nel Signore la volontà e la fiducia nella sua richiesta e farà il Signore farà in modo di far trovare a questa persona che si è rivolta a lui un suo rappresentante in questo mondo e quindi prendere rifugio in Dio vuol dire soprattutto prendere rifugio in una guida spirituale in una guida cosciente di Dio questo è ciò che tecnicamente si può definire prendere rifugio in Dio quindi con ogni azione soprattutto bisogna prendere rifugio quindi tutto ciò che facciamo deve essere completamente reso al Signore come ho detto prima perché intelligentemente tutte le nostre concezioni della vita provengono da Dio e poi se qualcuno lo vuole chiamare in un altro modo può farlo però bisogna riconoscere che comunque è una forza suprema c'è chi prende rifugio in una forza suprema chi per esempio è grato alla vita è grato a a qualcosa di superiore però c'è questa gratitudine anche se non va e non vuole essere definita come una persona come un Dio però c'è c'è qualcosa e questo si può percepire sia un devoto sia un non devoto un impersonalista e quindi agire costantemente per Dio usare le nostre abilità se uno è bravissimo a dipingere può continuare a farlo può fare delle opere meravigliose può diventare famoso anche per Dio può fare tutto però dato che riconosce le proprie abilità che provengono da Dio stesso da una fonte superiore allora le utilizza in questo modo con questa concezione con questo principio una persona volontariamente sceglie di sottomettersi a Dio e grazie all'intelligenza che gli dà Dio cerca e trova una guida autentica se non è sincero questo desiderio questa comprensione non è completa reale di essere parti di Dio allora c'è quello quella parte quella voglia di essere indipendenti che continua alimentare i desideri materiali che abbiamo coltivato in questa vita ed altre vite e magari li trasferiamo nella spiritualità ma non ci permetterà di trovare un vero maestro spirituale magari o possiamo trovare anche un vero maestro spirituale ma l'intelligenza e il proprio karma non è ancora purificato e quindi bisogna aspettare ancora un po' e quindi prendere il rifugio e affidarsi alla guida di di un maestro spirituale e sapere e coltivare in questo modo insieme sotto la guida di un maestro spirituale l'amore per Dio non che tutto l'amore che hai lo dai solo al maestro e Dio no voglio solo amare il maestro tu ami Dio lo senti lo percepisci ma sai che non puoi mantenere vivo quest'amore per Dio se il maestro spirituale non ti guida questa è una consapevolezza che arriva realmente dopo la pratica si può percepire quindi questo credo che possa essere una definizione di rifugio Hare Krishna e se ah c'è un'altra domanda poi parlerò brevemente qualche minuto di un grande devoto Hare Krishna volevo una domanda Krishna è il contro loro è il creatore di tutto lui conosce le nostre attività passate e anche quelle future ma noi allo stesso tempo abbiamo libero arbitrio quindi io non capisco dove è il limite tra questa libertà di scelta e il suo controllo Dio dice che lui è il controllore di tutto ma noi comunque manteniamo il libero arbitrio di scegliere cosa fare o cosa no eh sì esattamente così noi abbiamo il libero arbitrio di scegliere dove stare se stare se stare con Dio o se stare senza Dio e Dio ci ama comunque Dio in ogni modo che ne vogliamo stare con Lui che non vogliamo stare con Lui ci ama comunque e sempre pensiamo solo a questo mondo materiale noi l'abbiamo voluto in realtà e Krishna gentilmente ce lo concede no è come un un bambino che vuole qualcosa vuole un giocattolo dice papà papà lo voglio lo voglio e e Dio dice no e il papà dice no dai adesso no dai lo voglio lo voglio e e e il papà dopo un po' che insiste dice eh va bene dai te lo compro tienilo dai ci gioca poi ci gioca un po' un po' contento e si stufera tanto sarà sempre così allo stesso modo noi vogliamo e scegliamo di stare di stare senza Dio e diciamo voglio provare a essere indipendente voglio stare nel mondo per favore e Dio no guarda non è la cosa buona no ma voglio provare voglio essere indipendente voglio avere la mia indipendenza i miei desideri va bene dai ti do il mondo materiale tienilo adesso divertiti fai quello che vuoi allora l'anima fa l'esperienza nel mondo materiale e fa tante esperienze ma prima o poi arriverà al punto di stufarsi di questo mondo materiale prima o poi una vita o 30 miliardi di vite questo è il destino dell'anima di provare tutti i piaceri e poi capire che in realtà capire una volta per tutte che il piacere in questo mondo non non si trova non c'è e quindi Dio ci ama sempre comunque e quindi quest'amore fa in modo di lasciare a noi anime individuali il libero arbitrio di scegliere cosa fare di non obbligarci noi sappiamo in una relazione d'amore nessuno è obbligato deve essere spontaneo l'amore e così Dio vuole che sia spontaneo l'amore non vuole che sia obbligato quindi se l'anima decide di non voler stare con Dio e Dio per amore e per rasa vuole che ci sia uno scambio quindi vuole che l'essere abbia una libera indipendenza di amarlo di avere una relazione allora ci fa avere questo libero arbitrio quindi questo è proprio sintomo di amore e quindi niente questa comprensione va capita e comunque capire perché siamo qui come diceva anche in un'altra lezione sua grazia non ha molto non ha molto senso chiedersi cercare di scervellarci per capire perché abbiamo voluto dividerci da Dio chiediamoci adesso perché non vogliamo ritornare realmente da Dio con tutte le nostre forze questa è la domanda giusta che dovremmo porci adesso quindi si tratta sempre di di amore il libero arbitrio è questo spero che sia un po' la risposta alla domanda Hare Krishna e allora giusto due minuti magari oggi ricorre la scomparsa di Sri Sharanga Takur quindi noi cerchiamo sempre di onorare tutti i Veishnava e quindi almeno di parlare un po' di loro della loro vita e Sri Sharanga Takur era un grande devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu che risiedeva a Godrumadvip che è una delle nove isole di Navadvip Mayapur e ci sono soprattutto due storie famose di quando Sri Sharanga Takur meditava su questa isola sotto un albero un albero di Bakul si chiamava e una volta Sri Chaitanya Mahaprabhu è andato da lui e ha visto questo albero Bakul che stava per morire e ha chiesto a Sri Sharanga Takur cosa farai con questo albero cosa sta succedendo a questo albero e dice sta per morire non riesce a sopravvivere solamente solamente grazie alla tua misericordia che potrà rivivere ha detto a Chaitanya Mahaprabhu allora Chaitanya Mahaprabhu ha abbracciato questo albero e si parla di 500 anni fa e grazie a questo abbraccio questo albero è rinato praticamente adesso se si va a Godruma si può vedere questo albero questo albero Bakul che è un grande bellissimo arbusto quindi ha più di 500 anni e un'altra storia è quella che Shrisharanga Takur non voleva accettare discepoli ma Chaitanya Mahaprabhu insisteva per far fargli accettare dei discepoli ma non voleva Shrisharanga Takur era molto umile non aveva intenzione di accettare alcun discepolo però continuò a insistere Chaitanya Mahaprabhu di accettare dei discepoli e di dare istruzioni allora ha detto ok va bene seguirò il tuo ordine domani la prima persona che incontro ha detto Shrisharanga Takur la inizierò le darò l'iniziazione qualsiasi persona io incontro allora il mattino Shrisharanga Takur va a farsi il bagno nel Gange e un cadavere che passava dirà va a finire praticamente sui suoi piedi e allora ha detto ha fatto una promessa di di iniziare la prima persona che avesse incontrato e allora dice svegliati ti voglio iniziare e questo cadavere si è risvegliato e ha detto sono Murari questo è il mio nome sono il tuo servitore come posso servirti quindi quindi ha fatto rinascere questo cadavere e quindi questo era un ragazzo che aveva preso il filo sacro ed era stato morso da un serpente ed era stato e quindi ha lasciato il corpo e dato che era giusto un ragazzo di solito vanno cremati vanno bruciati i corpi e gettati nel Gange ma dato che era solo un ragazzo l'hanno messo l'hanno diciamo gettato nel Gange e fatto portare via dalle acque e in questo modo per questa incredibile coincidenza ha trovato Shri Charangatakur che l'ha fatto rivivere e quindi questo è diventato un grande devoto di Shri Chetanya Mahaprabhu e quindi questi poteri incredibili che hanno i devoti queste sono tutte storie vere e bellissime che ci fanno comprendere come sono così misericordiosi i devoti come sono umili come sono sottomessi Shri Charangatakur era sempre assorto in meditazione nel canto del santo nome per giorni rimaneva anche in estasi totale in samadhi e quindi questi sono gli esempi che possiamo seguire non che possiamo far rivivere noi i corpi non abbiamo questi poteri miracolosi però possiamo seguire i devoti prendere rifugio in questi devoti prendere rifugio nel maestro spirituale che ci dà la guida giusta e ci insegna a prendere veramente rifugio in Dio questo questo è l'unico vero modo mezzo per arrivare a Dio eliminare tutta la rabbia tutta la collera gli attaccamenti che abbiamo non ci sono altri modi non ci sono veramente altre vie quindi siamo molto fortunati di questa speciale misericordia vi ringrazio molto dell'attenzione Grantharaj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Sridha Prabhupada Ki Jai